Le formulazioni di Dr. Organic sono tra le più innovative sul mercato. Questo grazie all'impiego di materie prime organiche naturali che danno origine a dei blends di comprovata efficacia per ogni singola referenza. Tutto questo senza l'utilizzo di sostanze quali per esempio i parabeni, i petrolati, il sodio l'aurosolfato, i coloranti artificiali, le profugazioni artificiali e gli oli minerali. La linea Dr. Organic Rose 8 a base di rosa ottomana è composta da 18 referenze. Oggi vi parlo di una combinazione ideale per la detersione quotidiana della pelle del viso, il latte detergente e il tonico alla rosa ottomana. Il latte detergente alla rosa ottomana è un prodotto naturale, senza alcol, con una formula concepita specificatamente per le pelli stanche e spente, a base di olio essenziale di rosa ottomana, aloe vera, luppolo, estratto di avena, camomilla, calendula e passiflora. Il tonico alla rosa ottomana è un prodotto fresco e leggero, per pelli normali e miste, con le proprietà equilibranti e renettive dell'olio essenziale di rose biologico, acqua di rose, aloe vera, amamelide, complesso di aminoacidi, camomilla, fiore di tiglio, calendula, passiflora, pantenolo, vitamina C, più oli essenziali di geranio e garofano. Purifica delicatamente e al contempo mantiene l'equilibrio dermico della pelle, lasciandola vellutata e luminosa. Questo prodotto contribuisce al tono e al naturale rassodamento della pelle, favorendo l'idratazione ed aiutando a mantenere un colorito sano. Vi ringrazio per l'attenzione, Optima Naturals rimane a vostra disposizione per la mia esigenza di approfondimento. Grazie. 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 Grazie.